Il 29 sarà un giorno importante per l'Avis, ma non solo, per tutti gli aviscini. Esatto, perché novembre è il mese della donazione in rosa, quindi dedicato alla donna, e per la giornata di mercoledì 29 novembre, oltre a essere il Donor Day, e quindi la possibilità per tutti i donatori di donare sia la mattina che il pomeriggio, avremo anche l'Open Day. Questo significa che tutti i donatori, e speriamo le donne, appunto perché è dedicato alla donna, possono venire al centro trasfusionale e anche in sede Avis, che si trova in via San Francesco 53 davanti al comune, per poter avvicinarsi al mondo della donazione del sangue. Quindi è un modo come un altro per poter richiedere tutte le informazioni di cui hanno bisogno e quindi visitare quello che è il nostro mondo. Ci saranno anche dei medici, vi state attrezzando anche per qualche servizio in più da dare a chi viene in quel giorno? Esatto, sia al trasfusionale, ovviamente saranno presenti i medici del trasfusionale per i colloqui, quindi aspettiamo anche tutte le aspiranti donatrici per poter eseguire le analisi di donità. E in più anche in sede ci stiamo attrezzando proprio per dare la possibilità a chiunque voglia venirci a trovare di avere un servizio in più, quindi misurazione della pressione e poi ci stiamo attrezzando anche per la misurazione della glicemia e del colesterolo. Voi siete il punto di impatto, appena arrivano i donatori trovano voi, col vostro sorriso, insomma è almeno a loro agio cercare di metterli. È la prima cosa che facciamo infatti, cerchiamo proprio di, e questo è il nostro lavoro e ci piace proprio, metterli a loro agio e non farli pensare a tante cose, anche l'aspirante lì poi ce lo coccoliamo, ce lo accapparriamo proprio per poterlo far diventare donatore. Ci saranno delle sorprese, avremo dei regali e ci sarà un piccolo buffet offerto e in più anche in sede potrebbe essere una bella cosa venire a visitare la nostra sede e poter poi avere tutti i servizi che saranno presenti lì quella mattina.